C'è il portiere, no? No, e si apre. Capito? Se tu vieni, ti metti la carta. Poi loro quando lo chiusano, il colpone ti fa un schiattino, però se te la botta si apre. Io penso quella lì, quella da Luciano è vera perché è il marito, quella che sei marito, e se raccomandava che voleva che non c'era i niti. Però non c'è per canc***a. Ci sono fattori psicologici che lavoriamo su Delenze. Proprio che ci sta niti e è disposta a proteggerlo, capito? E a pitta, capito?